In tre minuti la fermana perde imbattibilità in campionato e due posizioni in classifica scivolando dalla quarta alla sesta e uscendo dalla griglia playoff. La sconfitta di Avezzano matura negli ultimi sette minuti di gara dopo che la fermana era stata in vantaggio per ben 77 minuti con il quinto gol di Tegano e non aveva trasformato almeno un paio di limpide occasioni per chiudere la gara, così è stata applicata la più antica legge del calcio. Nel convulso finale, dopo il pareggio di Marsi Cani, i gialloblu avevano anche avuto una grossa opportunità per riportarsi subito in vantaggio con Tascini, su cui però ha miracoleggiato il portiere locale. Proprio da questa azione invece è partito il gol del definitivo 2-1. Un finale sfortunato, ma c'è da dire una gara gestita male se è vero che il pareggio dei locali è giunto da una palla persa banalmente dalla fermana. Serve più attenzione e soprattutto più cattiveria e più ambizione, lo chiedono i tifosi che anche ieri hanno riempito lo stadio dei Marsi, come faranno domenica prossima a Campobasso, per un totale di mille chilometri di strada in soli sette giorni. Oggi la fermana ha gettato al vento una grossa opportunità per insediarsi nei quartieri più alti della classifica, viste le sconfitte di San Benedettese e Campobasso, quest'ultimo in vera crisi, che sarebbero le due principali pretendenti alla vittoria finale assieme al Fano, che invece già sta prendendo il largo e rimane l'unica squadra imbattuta. I gialloblu torneranno a Recchione fra due domeniche contro il Castelfidardo. Questa è stata la quinta vittoria dell'Avezzano su 11 incroci in Abruzzo in quasi 70 anni. Al primo vero fondo la fermana passa, al decimo è Daniele Degano che porta a 5 i suoi centri stagionali sfruttando un rinvio errato della difesa. L'Avezzano prova a reagire, ma è velleitario, invece punge di più la fermana che dopo 10 minuti sfiora il raddoppio. Ma Tabacco salva in estremis sul cross di Yotti dopo azione di Omiccioli. Alla mezz'ora Avezzano pericoloso con il suo faro Bisegna. Olzac e Comotto allontanano. Al quarantunesimo se ne spedisce alto, poco sopra la traversa, un colpo di testa che aveva concluso in contropiede condotto da Cremona. A quarto d'ora della ripresa l'Avezzano incomincia a crescere e diventa molto pericoloso con Di Massimo. Olzac salva, ma il gioco era stato fermato. Cinque minuti dopo Marsicani ancora pericolosi. Terrenzio blocca l'occasione. Arrembaggio dell'Avezzano che è costantemente in attacco. Al venticinquesimo della ripresa i locali vicinissimi al pareggio su punizione che termina di poco sul fondo con Olzac immobile e battuto. Alla mezz'ora Cremona lanciato da Degano, arrivato a tu per tu con il portiere, colpisce male e spreca l'occasione per chiudere la partita. Nel momento migliore dell'Avezzano che invece rimane in partita e che infatti tre minuti più tardi tenta il pareggio con Bisegna che però manda fuori. A quattro minuti tra fine arriva il meritato pareggio dell'Avezzano con Di Massimo che conduce fino al termine un'azione di contropiede partita con la fermana in possesso palla. Un minuto dopo i gialloblu hanno la possibilità di portarsi in vantaggio con un bel colpo di testa di Tascini ben imbeccato da Degano ma il portiere locale fa un miracolo. E il miracolo lo ripete un minuto più tardi la squadra biancoverde che con un gran tiro di Bisegna però un po' centrale ribalta il risultato che sarà quello finale 2-1. In pieno recupero inutile la punizione di Degano perché il portiere locale sventa di pugno. Poi il triplice fischio e la delusione tra i gialloblu. In questo momento mi va di dire che abbiamo fatto una partita in cui abbiamo meritato o strameritato secondo me la vittoria. Non c'è nulla da dire, l'abbiamo raggiunta in questa maniera però potevamo farlo anche prima con delle azioni che noi in realtà abbiamo fatto. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra che non ha mai smesso di provare a giocare a calcio a essere propositivo, delle volte ci riesce di più, delle volte ci riesce di meno. Io parlo sempre in questa maniera. Abbiamo avuto la possibilità di chiuderla prima dell'uno pari e poi su quell'uno pari avevamo la palla noi vicino all'angolo e da lì non può ripartire un contropiede da parte dell'Avezzano. Da lì dobbiamo uscire noi con una palla in calcio d'angolo e fallo laterale e la palla deve rimanere là. Mancavano 4-5 minuti, lì con un po' più di furbizia andava amministrata quella partita. Lamentiamo solo questa situazione di leggere i momenti di quando c'è da fare una cosa piuttosto che un'altra.